Questa mattina nella riunione dei capigruppo su proposta del gruppo rinascita per Cinque Frondi è stato convocato per martedì 22 ottobre alle ore 18.30 il Consiglio Comunale aperto per approvare un ordine del giorno che chieda la fine di ogni attacco contro il popolo curdo e che dia la cittadinanza onoraria a Okalan, leader e simbolo della lotta curda. Il comune di Cinque Frondi già in passato aveva deliberato un patto di amicizia con Koban ed è stato promotore di varie iniziative anche con la presenza di artisti come Zero Calcare. Il sindaco Conia ha ufficialmente partecipato inoltre a varie manifestazioni nazionali per i diritti del popolo curdo e l'assessore Manfrida ha partecipato alla carovana solidale e resistente che nel 2016 portò aiuti nei campi profughi siriani vicino Salonico. E concludiamo.